Una vera e propria spedizione punitiva per uno sgarbo fatto ad uno dei figli. Questo il retroscena della lite tra due ragazzi finita nel sangue quando sabato pomeriggio al villaggio Santa Barbara un quarantenne è stato accoltellato alla schiena. Tre in issegni pregiudicati tratti in arresto dalla squadra mobile guidata da Marsella Giustolisi assieme agli uomini della sezione volanti. Il 52enne Francesco Alletto, il trentenne Raimondo Alletto e il 41enne Massimiliano Salvatore Lombardo per l'ipotesi dei reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, rissa e porto abusivo di armi. I tre infatti dopo il diverbio tra uno dei figli di Alletto e di un'altra persona si sono recati al villaggio Santa Barbara teatro dell'animata aggressione che ha visto il coinvolgimento di una decina di persone dove Raimondo Alletto e Massimiliano Salvatore Lombardo avrebbero impugnato dai coltelli. Sarebbe stato quest'ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, ad aver ferito alla schiena il quarantenne Nisseno genitore dell'altro giovane che per il colpo inflitto si è casciato a terra. Ora ti sparo, sono state le parole a quel punto pronunciate alla vittima da Francesco Alletto che teneva al fianco una pistola. Progetto omicidiario non è andato a buon fine grazie all'intervento di un'altra persona presente sul posto che, sentite quelle parole, intuito l'insano proposito di Alletto, lo ha immobilizzato invitandola a desistere dal suo intento. Sentite le sirene della polizia, i tre si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. La polizia infatti ha trovato sul posto solo la vittima, riversa dolorante sul cofano della propria autovettura e qualche parente. L'uomo è stato condotto d'urgenza all'ospedale Sant'Elia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni comunque non sembrerebbero gravi. Appresi i nomi delle persone coinvolte nella spedizione punitiva, i poliziotti nel giro di poche ore dall'accaduto li hanno rintracciati con addosso gli indumenti ancora in crisi di sanque, mentre i due coltelli sono stati ritrovati in un dombino poco distante dal luogo dove è avvenuto l'accoltellamento. I tre uomini si trovano ora alla spina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono intanto le indagini della polizia per chiarire i punti oscuri della vicenda.